Siete pronti ragazzi? Lion? Pronti? No! Nessuno è pronto! Perché tu mi vuoi fare iniziare per ultimo? No! E quindi io non vengo! Ma ogni tanto toccherà anche a te partire per ultimo, no? Non è giusto! E si, si fa rotazione, è normale! No! Steph! Dimmi! Perché ha un'altra in testa? Non lo so! Perché è così piccolo? Non lo so, che gli è successo? È tutto strano! È solo perché sono basso che mi fa iniziare per ultimo, sei un mostro! C'è un colore che lui lo calma sempre tantissimo! È il blu? Sì, 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 vero? Ti piace molto! Però ad Anna non piace, quindi non farà arrabbiare Anna! Oggi devi iniziare Anna, quindi inizia ad andare pure, ignorando il fatto che hai un pesce sopra la testa! Io sono molto arrabbiato perché mi hai fatto iniziare! Va bene, a parte quello? A parte questo sono molto arrabbiato! Ma dai, ma smettila! Hai tutto il tempo di caricarti? Poi potrai già sapere tutti voi! Ah, già, andiamo! Via, 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 così non sento più Lion che si lamenta! Abbiamo anche il palco nuovo oggi, guarda che bello! Ho visto, ho visto, però vediamo un pochettino! Salve! Ma è un'ape? Eh sì! Salve! È un'ape! Un'ape caramella! Innanzitutto siamo precisi! Ok, un'ape caramella! Ok, sono nervosa! Come mai? Tanto perché sono in ritardo con la costruzione dell'alveare! Quindi adesso voi venite qui, mi fate crescere il mio albero che io ho da fare! Forza! Io sono un po', a me fanno un po' paura le api, quindi sto rimando un po' distante! A me possiamo fare! Ok! Oh mio Dio! Perfetto! Ok, si tratta bene, che bello l'albero! Ma, Lion! Inizio a fare crescere il mio albero! Secondo te è quella della pubblicità dei cereali con le api? Eh sì! Oh mio Dio! È l'ape famosa allora! È un po' di cereali da qua sopra! Butta sotto! Oh no! Cosa sta succedendo? Ma che succede? Ma è cattivissimo l'albero oggi! Non fate città! Le mie api! Le mie api! Povera! Hai fatto arrabbiare ancora di più! E si sta rompendo tutto adesso! Lo sai che le api non vanno toccate e poi si arrabbiano ancora! Lo sa chiunque! Ti sta dando fuoco all'albero! Scappa! Torna in acqua! Torna in acqua! Scappa! Le mie api! Sta spegnendo tutto! C'è anche un pompiere! Il pompiere è intelligente! Ho un'idea geniale! Vieni qua! Vieni qua! Ok! Ma dai! Vai! Vado! Sicuro? Vado! Sì! Vado! Scappa! A rivederci a me! Non è una buona idea! Ecco perché! Che fai! Eh senti! Tu ci volevi fu... No ci voleva punge! Ci stiamo dovuti difendere! Ci stiamo dovuti difendere! Stavo facendo il miele! Stava difendendo le sprappine! Ecco! Tornerò! Tornerò! Ma deve tornare qua per il voto! Certo che deve tornare! Venga qui! Forse ora la facciamo calmare! Si è calmata! Si è calmata! Ma ha fatto tutto! Guarda che disasso! Eh va bene! Sì! Ma guardate! Guardatela là! Che bella! Chi? La mia bambina là su! Ah sì! Ne sono rimaste! Eh sì! Qualcina è sopravvissuta! Aspetta! Gliele devasto! Ma smettila! Che poi ti arrabbia! Le ho tolte! Ah! Lion! Votazione! Chi parte? Fere parti! No! Tanto tu sei sempre gentile! Parti tu! Parlando tu parti! Non voglio essere la prima a votare! Mi mette ansia! Vai tu! Basta! Le api non mi piacciono! Sono un'ape caramella! Pazienza! È sempre un'ape con il pugiglione! Io! Allora io! Ok! Gli darei una pozione! Però appunto mi fa notare quel pugiglione grosso! E gliene do due! Ok! Si sentite un po' il pericolo! Non crederò eh! Fere? Io sono un po' indecisa! Devo pensarci bene! Gli le do! Allora due anch'io! Ok! Perché è stato un disastro e stavamo per morire! Quindi cioè non è stato divertente ma pauroso! Io lo devo dire questo! È stato molto pauroso! Sì era più un film appiassassino! Esatto! Io mi aspettavo di avere dei cereali buoni! Di fare una cosa tutta allegra e carina! Io devo cantare Miel Pops! E infatti! E invece ci siamo ritrovati a scappare dalle api! Non mi ricordo le parole! E sarà Miel Pops! Miel Pops! Vero era quella? Questa terra non è pronta per le api caramella! Ma lo so! Però era quella! È solo che è più cattiva di come ci ricordavamo! Per i Niki! Tocca a te! Arrivo! Forza! Si muova! Che cosa sarà quest'oggi? Cosa ci dobbiamo aspettare? Un creeper caramelloso! Oh salve! Salve! A me i creeper non piacciono eh! Io metto le mani avanti! Beh però è caramelloso! E' una di quelle caramelle con lo zucchero friccicoso sopra! È vero! Proviamo a leccarlo! Non è una buona idea! Non sappiamo cosa... Esatto! Non mi dovete leccare! Allora io sono qui per dimostrare che creeper hanno un buon animo giustamente! Beh non ci direbbe! E vi mostrerò tutte le mie creazioni caramellose che sono in grado di fare! Ok! Siete pronti? Vi faccio vedere sì! Allora posso mettere i fiori carini che lì non fa metterli! Beh stai in legno! Mi sembra anche normale! E' socrivere un pochino scemo comunque! Non vorrei... Non sono scemo! No 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 no! Non sono scemo! Sto dimostrando le cose ma il palco è fatto male e mi sta mettendo in difficoltà! È molto gentile Laion quindi teniamo alla gentile! Allora può odorare i fiori? Sanno di caramella! Sanno di caramella! Odoro eh! Sanno di caramella! Io ne mangio uno! Ma puzzano! Non puzzano! Ti dico che puzzano! Non puzzano invece! E mi state distrattendo e lo state facendo vedere! Perché la voglio vedere esplodere! Capito? No no no! Mettetela! No! Allora! Profumano! Stavo dicendo! Oltre i fiori ovviamente si può mettere anche il pavimento! Quindi quando voi avete questa bruttissima erba che non piace a nessuno e io adesso distruggo! A me piacele! Si può rimpiazzare con questa! Guardate che carina! Ma fa schifo! È acida! È brutta! Questa sembra di slime! Non sembra di caramelle! Diciamocelo eh! Scusa! No fere 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 fere! Facci vedere la prossima cosa! Devi accettare le critiche! La prossima cosa! Cos'altro c'hai da farci vedere? Oltre all'erba e i fiori volete fare anche una casettina! Ok! Potete utilizzare i blocchi caramellosi! Ovvero questo e farvi una casa tutta rosa! Aspetta! Ora ho capito tutta la sua arte! Scusa mi può far vedere come si fa una casetta? Sì! Perché state combinando! No no voglio vedere! È nulla nulla nulla! È bello come costruiscono i creeper! Sai Steph come succede sempre! Che tu stai facendo una casetta t'arriva uno di loro! Sì sì sì! Mettila! Vediamo cosa si prova! Cosa si prova! Perché hai fatto questo? Perché hai fatto questo? Io non ho fatto nulla! Io non ho fatto nulla! Ti volevo mostrare le ragnatele rosa che sono fatte di zucchero filato! Le ceste per poter mettere i vostri oggetti! Le fontane di granate e le fontane di caramelle! Mi avete distrutto tutte! Quella di caramelle non riesco a metterla! Va bene? Adesso mi faccio esplodere! Adesso mi faccio esplodere! E mi faccio esplodere! Ma smettete tutti! E mi faccio esplodere di nuovo! Scusa i creeper sono cattivi! Di solito doveva capitarci l'unico creeper buono! È sempre colpato che rovini tutto! E dire di passare alle votazioni perché avete tutti fatto... Non mi avete fatto neanche finire le esibizioni! Io dovevo mostrare tutto in modo carino e non mi avete fatto fare nulla! Sì ma adesso ammetto che a mettere la prova a non piangere invece che la prova a non ridere! Allora facciamo pace! Sì sì sì! Do le caramelle! Grazie! Grazie! Io me ne prendo un po'! Molto gentile! Io mi sento un pochino in colpa perché ci ho fatto esplodere casa! Ok! Quindi ce ne do tre! Poi è stato bravo! Tiè! Grazie! Almeno sei stato gentile all'ultimo! Anna? Allora io tre perché quelle caramelle erano buonissime! Carinissime! Lo sapevo! Ve l'avrei dimostrato meglio! Ne voglio ancora quindi ti verrò a trovare spesso! Ma l'avete votata benissimo! Eh lo so! Devi bilanciare! Bilancia! 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 Sì! Ricordati l'ultima volta lei te ne diede una! Mi ricordo! Mi ricordo! Perché era brutta! Mi ricordo come! Ai 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 ai! Che voto le diamo? E poi non si prende il rancore per i vecchi episodi! Dammi un'altra! Beh insomma insomma! Facciamo due! Perché a me non piacciono troppo i dolci! Dai! Va bene! Hai preso otto su nove! Direi che è già troppo! Sì! Va bene! Arrivederci! Arrivederci! Sì! Mi sono rata! Stef! Sei mezz'ora là dietro! Ti decidi! Hai fatto? Mi stavo scaldando la voce per la mia esibizione! Oh oh! Iniziamo male! Già! Arrivo! Vi prego no! Non di nuovo! Posso entrare? Non lo so! Che vuoi fare? No! Arrivo! Ragazzi posso provare anche no! I love you! 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 Ragazzi se vuoi! Se volete posso ucciderlo col fuoco! No! Allora! 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 Buongiorno! Lo so spegnere! Buongiorno! Buongiorno! Era soltanto l'ingresso! Avete presente che nella televisione quando uno entra parte la musica? Quindi stavo facendo quello! Si è fatto lo stacchetto da solo! Però io ero lì dietro da un sacco di tempo perché la scorsa volta Anna aveva detto che l'esibizione le era piaciuta ma le canzoni che ho cantato non erano molto belle e quindi mi stavo preparando qualche canzone più sofisticata. Quindi se volete darmi una chance questo oggi cercherò diciamo di rendervi fieri di me, di impressionarvi. Esatto! Siete pronti? Sì! Sì siamo pronti! Vado? Più o meno! Questa è proprio un grande classico della musica, proprio una di quelle canzoni che tutti conoscono, una canzone che viene apprezzata da tutti. Tutto ad Anna, quindi magari ha gusti difficili. Giusto, devi convincere il pubblico femminile qui eh! Vado? Eh già! Vediamo! Allora è la canzone perfetta allora! What's your destiny, Dragon Ball! Io so che tu lo sai! Ucidiamolo! Dragon Ball! Ma io non lo so se c'è! Perché non c'è! Non è che? Il male non muore mai! Mori! Ma scusa, ma non vi piace la sigla di Dragon Ball? Ma sì ci piace Dragon Ball! Ma non cantata! Ma sembra! Pollyanna scusami! Ma che sta dicendo? Mi scusi io sono una radio! Io gli faccio un discorso! No, 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 no! E cosa fai scusa? Gli metto a fianco il suo acerrimo nemico! Ah, giusto! Va lo rompe, non gli piace! Lo rompe! Secondo me ha sbagliato! Io penso che Anna avrebbe preferito tipo la sigla di Sailor Moon! È vero, è vero, è vero! La sai? Ce l'ha nel repertorio! Sì, certo! Può provare! Dai, io via! Io sono una radio, quindi non è che c'è nel repertorio, partono e basta! Ah! Tipo, Sailor Moon è una brava fanciulla! Ma non è! Combatte tutti e picchia tutto! Zero buzioni, guarda! Ti stai devastando con le tue specie! È rotta il suo di Sailor Moon! Ho trovato questa faccia, non è che lei magari che l'ha persa! Ma che cos'è? Che cos'era? Quanto ha perso! Era un insulto! Quindi vi canterò il mio inedito! Siete pronti? Sì! Dovreste conoscerlo tutti perché è molto famoso e lo danno sempre alla radio! Ma no, no, non è proprio un inedito! Se volete addirittura seguirmi in questa canzone, fate pure! Mottiamo le mani! Vado! Ok! Sono Steph! Video sempre! Registro tutto il giorno! No, non la conoscete? Io la conosco, ma è tua! Non è mia! Come non è tua? L'hai cantata tu! No, l'hai cantata Steph! Ma che stai dicendo? Steph è Fere, nell'altro canale! Non è vero! 3, 2, 1... Sono Steph! Video sempre! Registro tutto il giorno! Io farei iniziare Fere! Ok, la più cattiva! Allora, io devo dire una cosa! Ok! Una, due... E ti do anche la terza, ma solo grazie all'Aiol perché ho apprezzato il duetto! Il duetto mi è piaciuto un sacco! Io non gliel'avrei dato tre, eh! Ma vabbè che vabbè! Allora, io vorrei basarmi, vorrei consultarmi in privato con Anna un istante! Va bene, va bene! Tu quante gliele vuoi dare? Tante o po'? Io apprezzo l'impegno, insomma! Quindi medio! Medio! Ok! Dove cavolo è finita? Me l'ero andato per non ascoltare! Sì, ecco! Allora! Sì! Io speravo che lei fosse molto cattiva per il fatto di Sailor Moon! Ok! Per il modo da poter essere buono! Ok! Siccome lei non è stata buona, te ne do una! Due! Abbiamo cantato insieme! Due però! Due e basso! Va bene, va bene! Allora, io ne do due! Perché apprezzo l'impegno e la ricerca che ha effettuato per migliorare il suo repertorio! Eh, poi comunque la canzone di Sailor Moon ci sono andato vicino! Sì, con quella io mi fatti... Mamma mia, zero te ne avrei dovuto danno, lo so! Ma è bassissimo! Tototototom! Tototototom! Totototom! Totototom! Tototototom! Tototototom! Alt! Salve! Sono la guardia reale dello zucchero filato! Ok! Io conosco le vostre bocche assetate di mio zucchero filato! So che tutti voi volete divora! È vero! Ecco! Non è una buona cosa! Come no? Perché io sono la guardia dello zucchero filato! Non voglio che le persone se lo mangiucchino! Per me è un'osservazione! Sì! Ma quello che lei perde quando cammina è zucchero filato! È zucchero filato! Non provate a venire alle carmi! Scusi, scusi, scusi! Perché vi do fuoco a tutti, eh! Ok! Allora, come vedete, ho un problema però! Perché mentre io devo fare la guardia, no? Allora, quando vado in giro, vedete cosa succede? Alla testa! Gira! Ok! Quindi non capisco più niente! Io praticamente vado in giro! Ah, dov'è il ladro? Dov'è il ladro? Non lo vedo mai! È un problema gigante! È un problema gravissimo! Quindi ho pensato una soluzione! E voi dovete aiutarmi a verificare se funziona! Ok! Perché non ne sono sicuro! Allora, questo è il mio zucchero! Sì! Non toccate! Ok! Ok! Allora, intorno allo zucchero ci mettiamo tutti questi spuntoni di zucchero! Per proteggerlo, no? Ok! Così! No! Vedo che c'è! Eh! Eh! Che cosa è successo? Volevamo avvicinati per vedere meglio! Io adesso provo a fare la mia ronda! Ok! E vediamo se quando torno c'è ancora! Va bene! Ok! Ma vi siete mangiati anche gli spuntoni! No! No! Ma come no? No, no! Non c'è! Assolutamente no! Ma l'avete visto tutti? È passato un pesce acquatico che ha tolto via tutto! Sì! È colpa dei pesci! È colpa dei pesci! Siete dei lestofanti vergognosi! Vi siete mangiati anche gli spuntoni! Basta! Basta! Vi metto in galera! Forza! Tutti allineati qui davanti! Mi scusi! Tutti allineati qui davanti! Ha bisogno delle prove per poterci arrestare! No! Perché questo è il regno di Caramellolandia! E io... Per le supposizioni! Tutti qui in fila! Lui mi ha votato bene! Quindi almeno due gliele do! Ok! Ma almeno due o tre? No! Due! Rimaniamo su due! Che schifo! Non è stata proprio la sua migliore esibizione! A me è piaciuta un sacco e sono molto... Ok! Mi do tre pozioni da solo! Va bene! Io ho tre perché si sa che il mio punto debole sono i dolci! Ci ho dato lo zucchero filato! Sai com'è? Non resisto sinceramente! Quindi se le merita! Mi dispiace ma sono costretta anch'io a fare questa scelta! Perché è troppo zuccherino e buono! È vero! Non fa resistergli! Otto! Io ho fatto sette! Credo! Fere otto pure! Sì! Fere otto! Sì! Siete in pareggio! Salve! Avete pochi secondi per impressionarci! In questo caso è proprio una sfida a chi è più dolce! Sì! È vero! Allora! Qualcuno di voi deve riuscire a farci ridere in pochissimo tempo! Quindi sbizzarritevi! Fateci vedere un pochettino! Che facciamo? Sono sotto pressione! Non lo so! Ci dovremmo alleare! Fare qualcosa di molto dolcioso! È una sfida teoricamente! No! Ti dito! Fatti gli affari tuoi! Oh va bene! Noi veniamo dallo stesso paese! Capisci? È vero infatti! Ma potremmo anche vincere in duo comunque! Esatto! Esatto! Cioè siamo troppo... No? Siamo troppo simili! Siamo troppo simili! Lei è... Lui fa la guardia! Mi dolci! Io faccio i dolci! Quindi... È vero! Dai con me! Ma... 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 Io non li capisco! Posso farvi una casetta di dolci! Ci stanno escludendo dalla terra dei dolci! Chiaramente proprio! Infatti... Ma a me non sono molto simpatici! Sto pensando di togliere un voto ad entrambi! Io sto facendo la casetta! Che poi in realtà anche io facevo parte della terra dei dolci! Esatto! Eh ma ti hanno escluso eh! Ti hanno escluso! Quindi l'unico che ha perso è Steph! Buona soluzione! Io nel mentre vi sto facendo una bella casa di dolci! Io sono la radio della casa! Ok! Così ho un'utilità! Mi prego! E io sono la guardia! Lui è la guardia! Aspetta anche la porta ovviamente! Fera è l'abitante della casa! Fera è l'abitante! E Anna è l'animale della casa! Anna è l'insetto della casa! C'è l'inito sopra! Siamo perfetti assieme! Beh ragazzi! Se vi è piaciuto di lasciarci un like! Questa è la prima volta che vi è notato il nostro video potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao! Alla prossima! Ciao! 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 Grazie.